Buonasera a tutti, siamo Chiara e Andrea in collegamento da Roma. Dopo aver pregato insieme il rosario questa sera del primo giorno del mese di maggio, vi proponiamo un fioretto sulla tematica Il Papa incontra i giovani. Come ogni due anni, il Papa rivolge questo invito ai giovani di tutto il mondo a passare con lui delle giornate all'insegna della fraternità e dell'amicizia ed è un invito che è rivolto a tutti i giovani del mondo. È un invito bellissimo, è l'invito del Papa, ma in realtà è l'invito di Gesù alla nostra vita. È un invito a cambiare, è un invito ad un incontro con il Papa, con Gesù e con milioni di giovani. Chi ha partecipato alla GMG sa che questa è un'esperienza grandiosa, che può essere uno spartiacque per la nostra vita. Quindi il fioretto di questa sera che vi proponiamo è quello di prendere la valigia e partire. Partire e contattare chi sta organizzando i viaggi e fare questa esperienza stupenda perché sicuramente nessuno se ne pentirà. E per i meno giovani il fioretto è quello di contribuire e finanziare il viaggio dei giovani. Buona serata a tutti, buonanotte e arrivederci.